E poi rientriamo in plenaria. Susanna Mazzucchelli. Allora, cercherò di andare veloce proprio perché non abbiamo tempo. Sono d'accordo con gli interventi che dicono che bisogna spostarsi un po' dal carcere e basta, perché è difficile da far passare. A questo proposito, secondo me, si potrebbe cercare di comunicare... Bisogna tornare al porta a porta, nel senso che se si parla con le persone singolarmente si riesce poi ad aprire un pochino di più l'ascolto anche. A me è capitato ultimamente, noi con Rita abbiamo chiesto le relazioni per l'agibilità ASL e in base a questo abbiamo fatto diverse iniziative. L'ultima, io tento di contattare le persone, gli assessori, i consiglieri personalmente per vedere se partecipano, c'è stato un interessante scambio di opinioni con l'assessore alla sicurezza del Comune di Genova. Questa persona, qualche mese fa, rispondeva alle nostre richieste con sono contraria all'amnistia, sono contraria all'indulto e sono contraria a pannella. Ecco, questo è il massimo del dialogo. Però, insistendo, siamo arrivati ad avere una risposta molto bella che è una base di dialogo e ovviamente non lo mogliamo, adesso l'idea è quella di proporgli, di farsi carico della salute cittadina dei suoi detenuti e della sicurezza dei suoi detenuti perché comunque è tenuto a rappresentare anche quelli. Quindi bisogna tornare un pochino indietro e andare a lavorare sul porta a porta, secondo me. e poi, come diceva Comitato Nazionale, magari, ci arriveremo anche lì piano piano, e anche andare a informare quelli che sono i principali derubati da questo stato di non diritto che sono i ragazzi, i giovani, che non sanno assolutamente che cosa gli stanno portando via e che cosa gli può succedere. E a questo proposito, con un'associazione che si occupa di carcere, in qualche modo, che c'è a Genova, stiamo studiando un progetto da portare a scuola dove in diversi professionalità cercheremo di raccontare che cosa succede, anche se ce la facciamo, ampliare un po' e vedere qual è la libertà e i diritti che gli stanno portando via. Adesso non c'è tempo di approfondire, però l'idea è quella, cioè aprire e soprattutto cercare di far capire alle persone che, come diceva Bruno prima, non c'è un comportamento giusto o sbagliato per cui poi si finisce o non si finisce in carcere, ma c'è un sacco di gente che ci capita per caso, che prende malattie, che magari viene picchiata e senza alcun tipo di responsabilità. Non che quelli che hanno responsabilità meritano un trattamento di questo genere, però nell'opinione pubblica c'è proprio il discorso e vabbè però se sei lì, no, potrei anche essere lì per un puro caso o perché abbiamo un governo che inventa reati per far finta di occuparsi della sicurezza dei cittadini. Molte persone non sanno che inventare un reato non costa niente, mentre se tu metti una sanzione di tipo amministrativo devi garantirne la copertura, quindi la possibilità di eseguire poi il, come si dice, di andare a prendere quelli che delinquono e far pagare quello che devono pagare, mentre il reato non ha bisogno di nessuna copertura, quindi ne inventiamo di nuovi in modo tale che diciamo guarda che bravi che siamo, ma alla fine poi in carcere non ci sono quelli che ci dovrebbero essere, colletti bianchi ne vedete mai dentro, direi di no. Vabbè comunque la proposta è quella di cercare di fare un'azione un pochino più capillare, una proposta che si può replicare, che è quella che abbiamo fatto noi, è quella di chiedere l'accesso agli atti, quindi le relazioni di agibilità che l'ASL deve redarre o periodicamente per dire che quelle strutture sono agibili. Noi alla fine le abbiamo avute e abbiamo avuto dei racconti molto carini nel quale dicono ah abbiamo visto una cella, le altre sono tutte uguali, sì non è che va tanto bene ma insomma. Noi abbiamo convinto due consiglieri regionali della Liguria a presentare un ordine del giorno che è ispirato a uno della Lombardia, poi chi è interessato lo facciamo girare, ho visto che anche a Milano è stata fatta un'iniziativa basata su quest'ordine del giorno per il comune e presentare in modo che le ispezioni siano reali, perché in questo momento molti non le fanno e chi le fa le fa in maniera formale, nel senso dice sì ci siamo stati insomma più o meno. Quest'ordine del giorno è molto dettagliato e chiede che vengano valutate le condizioni detenuto per detenuto, cella per cella, ambiente per ambiente, compreso il cambio d'aria. Perché è importante farlo scrivere? Perché una volta che c'è una norma scritta poi noi possiamo protestare perché non viene rispettata, altrimenti ci prendono un po' in giro. Chiediamo la relazione e loro ce la fanno, superficiale, malfatta e dobbiamo prenderci quella. Quindi secondo me si può fare sia a livello regionale ma anche a livello comunale in modo che abbiamo due strutture che si controllano una con l'altra. Allora spero di non aver pasticciato troppo per correre ma... Si è capito? Grazie Susanna.